Cari amici, ho l'onore di presentarvi The Rose, la rosa, il primo quadro della collezione Grandi Giardini Italiani, questo network, il più importante network di giardini visitabili in Italia. La rosa è un quadro semplice, ho voluto semplicemente dare questa idea di bocciolo di rosa, come vedete è una spirale che si allarga nel quadro su un fondo verde che rappresenta appunto il giardino. È un quadro che mi ricorda la mia infanzia, i rosetti di casa, e infatti ho voluto mettere questa cornice florescente per dare l'idea delle cornici di rosa che c'erano nei nostri giardini, nei nostri meravigliosi giardini italiani. Questa sarà la prima pashmina della collezione Grandi Giardini e ne seguiranno altre quattro. Benissimo, cari amici, grazie.